ci siamo tutto pronto partiti cavalli della prima corsa di quest'oggi dall'interno parte bene coming pulse subito veloce però nora moon che prende la corda e soprattutto la testa della competizione buona la partenza anche di mamma marea che in poche battute sopravanza proprio le due rivali citate in precedenza al centro la pista galoppano invece nicole con davanti la cortigiana la giubba azzurra e quella di l'urna dietro a queste anche infiniti lo a completare il quadro troviamo strong and fast i primi 500 metri di gara si sono tenuti in questo modo in questo ordine con la cortigiana che al momento è in vantaggio nei confronti mamma marea di dentro ci va coming pulse di fuori invece ci va nora moon accompagnata da l'urna paletto dei 400 con mamma marea sotto la pressione di coming pulse all'interno la cortigiana che in questa fase sta calando ci prova allora nora moon e soprattutto l'urna al centro della pista quando siamo al centro dal palo l'urna dall'esterno ha preso vantaggio che adesso sta amministrando l'urna e ancora davanti coming pulse che ci prova fino all'ultimo momento con l'urna che alla fine si salva rispetto a coming pulse e poi è nora moon vince l'urna al secondo tentativo in carriera dopo il debutto il secondo posto alle spalle di winterfield colleziona la vittoria in maiden aveva esordito a vendere in sella claudio colombi per la grizzetti galoppe colori di paolo serafini 4 al primo posto 1 al secondo 7 al terzo è l'ordine d'arrivo ufficioso della prima grazie a tutti